Catania, Aglias, Ulisse? Ulisse, sì. E chi è? Ulisse è uno scienziato, un uomo di scienza, uno che è molto sicuro, dà delle certezze, diciamo, quindi è uno un po' così, contrariamente Agata che invece è un po' una mezza imbrogliona, non ha proprio delle certezze scientifiche come me, anzi, quindi siamo i due opposti, un uomo razionale, una donna assolutamente irrazionale che ovviamente si attraggono. Questo mio modo di essere un po' chiuso per certe cose mi porterebbe a essere quasi antipatico, però in questa antipatia bisogna lavorare per costruire, alla fine, un personaggio simpatico e comico. Progetti futuri? Progetti futuri, sì. Sto facendo questa fiction in scene che si chiama Ho sposato uno sbirro 2 che abbiamo presentato proprio l'altro giorno qui al Fiction Festival. Poi c'è Boris, insomma ci sono delle cose sempre, nel cinema è un po' più difficile, però spero di farlo.